Amici e guardoni degli scacchi, ben ritrovati con la rubrica degli scacchi ignoti. Oggi vi porto una partita squisitissima, succulentissima. Una partita tra il grande maestro inglese Nigel Short, che forse conoscerete, contro un meno noto, io non ho trovato niente, Richard J. Miles, che non è naturalmente quell'altro più famoso, Anthony Miles, quello che sconfisse Karpov con la difesa San Giorgio. Questo è un signor qualcuno, almeno io non lo conosco, magari è famoso ed è una, come dire, una lacuna mia in tutti i modi. Questa partita che vi faccio vedere oggi è una partita del 76, giocata a Manchester, tra appunto Nigel Short, tra un giovanissimo Nigel Short, all'epoca 13enne. Qui nella foto ho trovato una foto in cui Short aveva, credo, 15 anni. Oh, scusate, mi si è scombinata la grafica. Scusate un attimino che la rimettiamo in ordine. Ecco, bello della diretta. Benissimo. Ecco, tra un giovanissimo Nigel Short, che aveva appunto 13 anni, nella foto qui a 15, se si può essere più inglesi di così, detemi voi. Partita bellissima, che io conoscevo già, non so, non credo che ci siano, o almeno non ho fatto una ricerca molto approfondita, non mi pare coperta in nessun canale italiano, c'è in qualche altro video anglofono. È una partita che io ho trovato per caso qualche anno fa, quando mi stavo preparando per il campionato sociale del mio circolo di scacchi, partite a tempo lungo. Un giorno o l'altro vi farò una serie di video in cui vi faccio vedere le 6-7 partite di quel campionato. Io mi piazzai quarto, fu un successo per me personalmente pazzesco. Ero in prima scacchiera, pensate un po' voi, eh. Mamma mia, no, un giorno vi racconterò di quel campionato sociale lì. Ero in prima scacchiera contro il più forte del circolo, e io avevo i bianchi, e lui giocava la Peerz, giocava sempre la Peerz, quel signore molto forte, un gioco anche tattico, molto spinto, aggressivo, eccetera. E io mi ero andato a vedere un po' di partite con la Peerz, per cercare di sorprenderlo, e trovai questa meravigliosa, meravigliosa partita di questo giovanissimo Nigel Short. Non scelsi poi di giocare questa linea perché è troppo difficile. Adesso vi faccio vedere. È una partita che ha un sacrificio di donna prestissimo, a cui segue una dominazione totale dei pezzi bianchi. Due parole su Nigel Short. Io, vabbè, non lo conosco granché, mi fa molta simpatia. È un giocatore di fantasia, è un fantasista degli scacchi. È famoso, è diventato famoso poi negli anni, credo, primi 90, soprattutto quando seguì Kasparov, che lasciò la FIDE. Kasparov, per questioni sue, lasciò la FIDE e fondò una sua associazione, la PCA, la Professional Chess Association, credo. E in quel momento lì, credo fosse 91, 92, si divise anche il titolo di campione del mondo. Cioè, il campione del mondo FIDE e il campione del mondo PCA. E Short giocò con Kasparov, credo, un paio, uno sicuro, forse anche due, match per il titolo mondiale della PCA, che Kasparov vinse in entrambe le occasioni. Short è un giocatore sempre molto interessante. C'è una partita, poi ve la farò vedere, l'avevo vista sul canale di Agadmator, una partita in cui Short fa dei numeri con il re, una cosa bellissima. Partita completamente surgelata, lui dice, ma se io porto anche il re in attacco, bellissima. Adesso vi faccio vedere questa partita qua, dicevo, del 76 giocata a Manchester. Allora, abbiamo le seguenti mosse. È una Pierce, quindi, E4 di Short, D6, D4, cavallo fuori in F6, cavallo C3, G6, alfiere C4. Ecco, di solito non si gioca l'alfiere C4 nella Pierce. O non si, diciamo, non è la principale. Il nero risponde con il fianchettamento dell'alfiere. Non si gioca l'alfiere in C4, di solito, nella Pierce, perché poi si va avanti così. Se il bianco è un po' sproveduto. A me è successo tantissime volte il circolo. Il bianco dice, boh, vado avanti con lo sviluppo. Questo non è stato giocato in partita, eh. Arrocco. Arrocco. E qua c'è un trappolone. Questo. Il bianco riprende il pezzo sacrificato e poi dà la forchetta, dal forchettone col pedone. Quindi, di solito, per questo motivo qui non si mette l'alfiere in C4, eh. Anche perché, ritorniamo dove eravamo, eravamo arrivati alfiere C4, ecco. Anche perché poi l'alfiere generalmente sbatte, non ha, almeno all'inizio, in apertura, l'alfiere in C4 nella Pierce del bianco non ha grande sfogo, grande aria. In ogni caso, alfiere C4, alfiere G7 del nero che è fianchetta. Ecco, e qui, qui c'è la mossa che dà il colore della partita. Questo giovane, intraprendente, fantasioso, britannico, Nigel Short, gioca donna e due. Bam. Donna e due. Bam. Mossa è un po' oscura, perché qui dice Column of System. Bu, va a sapere. Perché di solito la donna qui o si mette dietro l'alfiere, però prima si sviluppa l'alfiere, naturalmente. Poi si mette la donna qua per sfianchettare e magari arroccare lungo. Però donna e due. Poi, al di là di tenere questo pedone, non si capisce neanche tanto bene cosa stia a farci. Miles gioca a cavallo C6, attacca questo pedone e qui, verrebbe da dire, si gioca a cavallo F3, no? Giusto? Guarda. Ah, però, anche cavallo F3 ha i suoi problemi, perché poi viene inchiodato. Beh, si può spostare la donna, ma, insomma. Però, c'è la minaccia evidente della presa del pedone. Guardate cosa fa Nigel Short qui. Guardate che cosa fa Nigel Short qui. E5. Boom! Meravigliosa. Meravigliosa. Il computer da... Adesso vi faccio vedere... La vedete voi la barra? No, non la vedete, non vedete niente. Così. Meno uno. Meno uno e spingi. E5. Minaccia il cavallo. Ma... Ma... Il giocatore da circo dice... Sì, minacciami pure il cavallo. Io ti prendo il pedone e ti minaccio la donna, quindi guadagno un tempo. No. No. Short fa E per F6. Sacrificio di donna. F per G7. Questa qui è la posizione, diciamo... Pare che sia teorica questa roba qua. Almeno. Io ho sentito dire che è teorica. Qui la valutazione è sempre... Meno uno, sì. Adesso qui c'è il cavallo in presa e la torre però più importante ancora in presa. Quindi obbligata praticamente è torre G8 per togliere la torre dalla presa e... Contrattaccare su questo insidioso pedone avanzato. È come un immigrato che scavalca il muro e passa il confine questo qui. Ecco. Quindi adesso come siamo messi qui? E dunque... Il bianco ha sacrificato la donna. E un pedone, credo. Giusto? Vediamo un po'. 3, 3, 6, 1, 7, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sì. Donna è un pedone. Benissimo. In cambio di per adesso due pezzi leggeri. Però questo cavallo adesso cade con ogni evidenza. Giusto? Cavallo G per E2. Ok. Quindi tre pezzi leggeri per donna e pedone. Il nero prende, riprende quel pedone lì. E il bianco ne approfitta subito per sviluppare un pezzo attaccando un pezzo dell'avversario con alfiere in H6. Così. Quindi guadagno un ulteriore tempo. Il nero riporta in giù la sua torre. E qua il bianco arrocca lungo. Vedete che il bianco è tutto sviluppato. Certo, ha un po' di svantaggio. Ha... Insomma, un svantaggio materiale abbastanza importante. Però ha un grosso vantaggio dinamico. I pezzi li ha tutti sviluppati. Mentre qui, come vedete, il nero è ancora a casa sotto le coperte. Sotto le coperte. Ora, io ho sempre paura a giocare a queste posizioni. Perché mi piacerebbe saperle giocare, naturalmente. Perché sono scacchi proprio nella loro pura essenza di fantasia, di comprensione della posizione. Però qui non ci si può permettere, se si è il bianco naturalmente, di perdere un tempo. Perché se si perde quello slancio dinamico e il nero si districa, è finita. Notare anche che il nero non può arroccare corto, qui, naturalmente. Dunque, arrocco lungo. Adesso il bianco, arrocato lungo, perciò il nero sta al nero. Il nero gioca E6. Forse è un po' fiacchetta come mossa, eh. Forse è un po' fiacchetta. Perché, a parte che indebolisce ulteriormente le case scure qua, quindi magari anche l'alfiere può poi diventare problematico su questa diagonale. Ma al di là di questo, diciamo, forse più interessante sarebbe stato una risposta più energica. Cosa dice qui? Dice C6 o G5 addirittura? G5 è molto bella, per intrappolare l'alfiere. Altrimenti C6, per far uscire la donna magari. Ecco, invece il nostro Miles gioca E6. H4 di short, che va avanti tutta. Non è facile qui decidere il piano, eh. H4 per aprirsi la colonna della torre, evidentemente. Perché qui vedete che, diciamo, la zona dello schieramento del nero più debole è ovviamente questa. Quindi, short cerca di spaccare tutto e venire giù. H4. Alfiere D7, lenta anche questa, eh. Un po' lenta anche questa. Cavallo in E4. Cavallo in E4. Sviluppa certamente un pezzo, si prepara a venire qui. Questo è evidente. Ma mi sto domandando, non c'è il doppio qui? Vediamo un po' cosa succede. D5 e D5. Il motore dice che con alfiere G5 è tutto a posto. Alfiere G5, qui addirittura suggerisce di mangiare. D per E4, alfiere per. Figuratevi un po' voi. Ma scusate, se si gioca una cosa tipo... Ah, non si può fare così. Non si può fare così perché si entra come delle faine. Per bacco. Per bacco. Per bacco, signori. E se si sposta la donna, poniamo, si entra comunque come delle faine. Bello. Caspita. Qui il motore dà, per esempio, Re F8. Poi c'è scacco di nuovo qua, per esempio. Si può fare quello che si vuole. Ho capito. Ma che meraviglia. Torniamo indietro. Oh, scusatemi. Ah, che casino che ho fatto adesso. Dove siamo? H4. Alfiere D7. Cavallo E4. Quindi, morale della favola, la spinta per dare la forchetta non ci sta. Ma si gioca F6. Ah, proprio per chiudere questa diagonale qui, vedete? Per impedire questo giro qua. Avanti ancora. Cavallo F4. Mamma mia, che paura, ragazzi. Cavallo F4 attacca questo punto, in congiunzione con l'alfiere. Re F7. Difende. Torre H va in E1. Aumenta ancora... Opla, scusate. Aumenta ancora la pressione qua. Torre 8 difende. G4 vuole spaccare tutto. A5. Eh, A5 non so a cosa serve, eh. A5... Sì, magari vuol far uscire la torre o qualcosa, ma A5 mi sembra una mossa pessima. Qui cosa dà? B5 o D5. Qui, vedete? Adesso io ve la faccio vedere così, però qui bisognerebbe ancora valutare cosa succede se si fa D5, cosa succede se si fa, per esempio, una mossa che potrebbe essere anche interessante, è questa qua. B5 per attaccare l'alfiere, per esempio. E poi magari espandersi di qua e intrappolare l'alfiere, vedete. Comunque il nostro gioca A5. A3. Per far che roba. Ah, per evitare B5, ok. Ok, per dare la casa di fuga all'alfiere, perché sennò veniva intrappolato, ok. B5, l'ha giocato, alfiere A2. Torre E7. Torre E7. Per difendere ulteriormente la traversa, magari poi prepara questo, toglie la donna, raddoppia le torri, forse una cosa del genere. G5, eccola qua, siamo arrivati al contatto. Siamo arrivati al contatto, G5. F5, Miles tiene tutto chiuso, però a questo punto si crea un buco pazzesco per il cavallo. Cavallo F6. E' minacciato questo pedone, ed eventualmente anche l'alfiere. Magari adesso no, ma più tardi sì. Alfiere C8 lo toglie, vuole tenere l'alfiere. Presa del pedone. C5, continua l'espansione sul lato di donna. H5, per rompere tutto. Presa. Guardate qua, G6, scacco. Perché prende, scusate, torniamo in un momento. Se non prende, ah beh, prende lui col cavallo o col pedone, perfetto. Quindi prende, non riprende di cavallo, ma piuttosto dà scacco e avanza con il pedone passato. Quindi scacco. Allora, il re qui no. Può venire qua. Può venire qui e qui. No, qui neanche. Qui e qui, giusto? Perché questa è presa, questa è presa, questa è presa. Il re si mette lì, così fa pressione sul cavallo. Cavallo F6, scacco. Il re va in H8. Cavallo per E6 e il bianco vince, perché il nero abbandona. Che meraviglia. Qui non ci stava subito la spinta di pedone. No, perché avrebbe preso. Quindi lui fa cavallo F6, per supportare la spinta di pedone. Ok. E se alfiere per? Cosa succede qua? Torre per. Torre per. Ah, no, c'è anche questo. È certo. È certo. E questo qua non lo fermi più. È questo qua. No, però ho sbagliato l'ordine. Non bisognava prendere di torre, scusate. Dunque, cavallo per E6. Alfiere per. Meglio fosse prendere prima di alfiere, direi. No, qui il motore è da torre. Torre per E6. Vediamo un po' se c'è qualcosa di più forte, un attimo. Dunque, torre per E6. Poi, beh, lui riprende di torre per forza. Ok. Ah, c'è matto in uno. Che stupido. Matto? No, vabbè, ragazzi. Ultrasonica. Partita ultrasonica di Nigel Short. Bellissima. Difficile. Io, sapete, sono un giocatore così da osteria. Da osteria. Quindi ve le faccio vedere. Non è che ci capisco troppo. Non è che io di queste partite così complesse. Bellissima. Bellissima. Questo sacrificio di donna iniziale è meraviglioso. Così. Diciamo, si comincia a giocare da qua. Ecco, si comincia. O forse da qua, ecco. Da qua. Perché, cioè, fino a qui più o meno è forzato. Diciamo, da quando, dal pedone poi la donna fino a qui, grossomodo sono mosse forzate. E6 a me non è che convince tanto, eh. Poteva, non poteva. E6, sì, apre la donna, né. Apre la donna magari poi per venire qua. Però, va, vabbè. Comunque Short gioca in maniera veramente magistrale. Pressione fortissima al centro. È bello. Va bene, signori. Che dire? Chapeau al signor Short. Avete, ecco, così. Chapeau al signor Short. Che adesso è un amabile anziano. Anziano, no. È del 65, quindi non è tanto anziano. Che giocherella ancora. Fa, scrive dei libri. Sponsorizza gli scacchi nel mondo. Quindi, chapeau a Short. Che mi sembra anche una persona molto simpatica. Uno che gioca a scacchi così non può non essere simpatico. Va bene, cari. Io vi saluto. Vi invito a mettere like. A iscrivervi al canale. A commentare. E ci vediamo presto. Fatti bravi, eh. Ciao.